È stata una bella partita, poi c'è chi vince e c'è chi perde, d'altronde voglio dire dopo diversi incontri c'è anche la possibilità che un derby venga anche perso, ci può stare. Abbiamo giocato bene, loro sono stati anche fortunati, hanno un grande portiere, non voglio parlare delle decisioni arbitrali perché non mi sembra il caso, però sono contento. Il campionato ha detto che siamo secondi, poi una partita la puoi vincere, la puoi perdere. È stata emozionante, è avvincente, siamo contenti così, va bene così. Ed ora bisogna attendere? Attendiamo speranzosi e fiduciosi, ma se viene o non viene non cambierà il nostro progetto, il nostro futuro. Chiaro che se facciamo una finale 8 ci dobbiamo preparare a modo per affrontare tre giorni intensi dove vogliamo comunque ben figurare. Il bilancio è assolutamente positivo perché come è stato detto in diverse occasioni siamo partiti in sordina perché la passata stagione abbiamo dichiarato di voler fare il salto di qualità, non ci siamo riusciti per tanti motivi. Quest'anno era necessario giocare, abbiamo giocato bene, il mister ha fatto un grandissimo lavoro, i ragazzi si sono attaccati a lui e questo secondo posto è tutto merito suo del mister che ha tirato fuori il meglio da questi ragazzi.